Benvenuti su Gossip e Notizie. Iscriviti per restare aggiornato su tante notizie. Grazie. Ieri pomeriggio sul sito ufficiale e sui social del Voyager Show condotto da Alfonso Signorini è stato pubblicato un importante comunicato che riguarda Ilaria Clemente. Di fatti è stato reso noto che quest'ultima ha abbandonato temporaneamente la casa più spiata dagli italiani. Il motivo? Non è dato saperlo con esattezza, visto che gli autori del programma dell'ammiraglia Mediaset si sono limitati a dire che ha lasciato per motivi personali. Si segnala che proprio in queste ultime ore la famiglia della ragazza ha rotto il silenzio su Instagram, rassicurando tutti che sta bene. Lei sta bene. Si fa inoltre presente che di voci di corridoio sul motivo per cui la concorrente ha lasciato momentaneamente la casa del grande fratello ne sono circolate parecchie sui social. E molti hanno ipotizzato che quest'ultima potrebbe aver abbandonato il programma condotto da Alfonso Signorini per fare un test di gravidanza. Visto che nelle ultime ore avrebbe confidato agli altri inquilini della casa più spiata dagli italiani di avere un ritardo di 10 giorni. Ma quale sarà la verità? Al momento non è dato saperlo, visto che la famiglia, sempre su Instagram, ha preferito che fosse la diretta interessata a parlare. Sarà lei eventualmente a spiegare la motivazione della sua momentanea uscita dalla casa? La famiglia di Ilaria Clemente ha poi colto la palla al balzo per ringraziare davvero tutti i fan del grande fratello che in queste ultime ore non hanno fatto certo mancare il proprio affetto e sostegno. Ci teniamo a ringraziare tutti per i messaggi ricevuti in queste ore. Adesso c'è da capire cosa riserverà il destino a quest'ultima e se potrebbe esserci il rischio concreto che abbandoni la trasmissione di Alfonso Signorini o meno. C'è da dire che molti sui social hanno già ipotizzato che domani sera in puntata sarà lo stesso presentatore dell'ammiraglia Mediaset a fare chiarezza su tutta questa faccenda. Sarà così? Chissà, intanto c'è anche un televoto in ballo. Difatti uno tra Amanda Lecciso, gli attori Clarissa Barti, Iago Garcia e Maria Vittoria dovrà abbandonare per sempre la casa. In base agli ultimi sondaggi a rischiare maggiormente pare siano la sorella della compagna di Albano e Mari Vittoria. Andrà davvero così? Per scoprire chi sarà il primo eliminato di questa edizione non resta che seguire la puntata di domani sera. Grazie per l'ascolto e iscrivetevi al canale per essere aggiornati su tante notizie. Grazie.